Nel Vangelo di Giovanni che viene letto per la quinta domenica di Pasqua si legge Io sono la vita è vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Cioè a me sembra che chi mostra di portare frutto, di prendere a cuore la sua vocazione cristiana, di non essere indifferente alla chiamata che gli viene fatta, viene potato, cioè viene trattato in modo da produrre più frutto. Questo essere potati, come dice il Vangelo, spesso passa dalla sofferenza, il modo in cui veniamo appunto provati e forgiati. A nessuno piace soffrire, tutti cerchiamo di sfuggire le sofferenze fisiche e mentali, ma se le vediamo come un modo per essere raffinati e migliorati, immagino che le stesse sofferenze, che istintivamente ovviamente certo ci ripugnano, possano essere considerate più sopportabili. Nello stesso Vangelo di Giovanni Gesù continua dicendo «Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano». Ecco, questa è la fine della citazione di questo Vangelo. «Sappiamo che molti oggi, in un tempo di crisi della fede e della Chiesa stessa, si interrogano su come rimanere in Cristo, ma senza essere coinvolti nella miseria spirituale che si respira in tanti ambienti ecclesiali. È una questione veramente importante che tutti ci poniamo, come vivere una sorta di esilio spirituale. Certo, abbiamo la preghiera che possiamo fare in qualunque momento della giornata, ma è anche vero che il culto, già dall'Antico Testamento, deve avere una dimensione comunitaria. Quindi, come comportarsi quando nella tua parrocchia viene meno la dignità del sacrificio eucaristico? Non ho una risposta semplice, purtroppo, a questa domanda, ma certamente io credo che non bisogna incoraggiare con la propria presenza gli abusi liturgici che vengono fatti in alcune parrocchie. Certo, è un tempo complesso, ma anche di grazia, in quanto mai come oggi siamo messi alla prova attraverso la nostra sofferenza personale, che ci si presenta come sofferenza fisica, mentale e spirituale. Armiamoci quindi per la battaglia sui campi di combattimento dove veniamo chiamati e siamo certi che il nostro generale ci condurrà alla vittoria finale.